In chiesta montante salgono a 30 gli indagati e sono tanti i nomi eccellenti che vanno dall'ex governatore Rosario Crocetta fino a Giuseppe Catanzaro. Illustrati oggi a Palermo i dettagli del contratto di servizio tra la regione siciliana e Trenitalia. Ciclo Amnesty e Open for Amnesty due domeniche a Palermo all'insegna dei diritti umani. Buonasera, prima edizione di Medianews, oggi è giovedì 17 maggio. Apriamo con l'inchiesta montante, salgono a 30 gli indagati e sono tantissimi i nomi eccellenti che vanno dall'ex governatore Rosario Crocetta fino a Giuseppe Catanzaro, amica e successore di Montante, alla guida di Sicindustria. E intanto arrivano le prime ammissioni. Salgono a 30 gli indagati nell'inchiesta montante. L'ex responsabile legalità di Confindustria ha finito ai domiciliari insieme a 5 altri esponenti delle forze dell'ordine e dei servizi con l'accusa di concorso in associazione a delinquere finalizzata alla corruzione. E sono tantissimi i nomi eccellenti che vanno dall'ex governatore Rosario Crocetta fino a Giuseppe Catanzaro, amico e successore di Montante, alla guida di Sicindustria. A Catanzaro è stato notificato un invito a comparire, mentre un avviso di garanzia è stato inviato a Crocetta, accusato di finanziamento illecito dei partiti e concorso in associazione a delinquere finalizzato alla corruzione. In sostanza avrebbe nominato in giunta due assessori sponsorizzati dall'imprenditore. Un elenco lunghissimo, comunque quello degli inquisiti nella lista, anche gli ex assessori alle attività produttive Linda Vancheri e Mariella Lobello, che sarebbero state appunto nominate da Crocetta per accontentare Montante, e anche l'ex presidente dell'IRSAP, l'ente regionale per lo sviluppo alle attività produttive, Maria Grazia Brandara. Nel patto corruttivo tra Crocetta e Montante rientrerebbe anche un aiuto particolare ricevuto dall'ex governatore. L'industriale infatti avrebbe impedito che venisse reso pubblico da parte dei giornalisti un video dal contenuto scabroso attinente alla vita privata di Crocetta. Quest'ultimo però respinge le accuse. Il video scabroso mi dipingono come una porno star, come se fossero così fredi, ma dov'è questo video? La verità è che non esiste. È una bufala, come al solito, per denigrare la mia omosessualità. È falso, come falsa è stata la notizia dell'intercettazione in cui avrei sentito le frasi contro Lucia Borsellino, addetto a Lanza l'ex presidente Crocetta. Emblematiche però anche altre vicende venute fuori dall'inchiesta che coinvolgono l'ex assessore Nicolò Marino e Giulio Cusumano. Montante sarebbe entrato anche in questo caso in possesso di un video scabroso sulla vita privata di Marino, che aveva espresso critiche su Confindustria e si sarebbe adoperato per diffonderlo. Stesso trattamento sarebbe stato riservato a Giulio Cusumano, che era al vertice dell'azienda trasporti siciliana, cioè l'AST, controllata dalla regione. Il manager si oppose alla cessione dell'AST a una microazienda controllata, la Ionica Trasporti, dove Montante aveva una partecipazione. Per convincerlo, Cusumano fu ricattato per il suo orientamento sessuale. Intanto però cominciano ad arrivare le prime ammissioni dopo il blizz di lunedì scorso. Il sostituto commissario De Angelis, finito ai domiciliari, ha accettato di rispondere alle domande del giudice di Caltanissette e ha ammesso di avere fatto dei controlli illegali nella banca dati delle forze dell'ordine, per conto proprio di Montante. Ha però cercato di ridimensionare il tutto, dicendo che quei controlli gli erano stati chiesti dal capo della sicurezza dell'ex presidente di Sicindustria, Diego Di Simone, finito anche lui ai domiciliari. Controlli e dati che poi Di Simone avrebbe rielaborato, ha detto ancora De Angelis, per guidare le scelte di Montante. Per la procura comunque l'indagato non dice ancora tutta la verità. Il caso Montante, l'elezione di Claudio Fava, presidente della commissione parlamentare antimafia Lars, il commento del presidente della regione Nello Musumeci. Bisogna sempre essere attenti a non buttare il mostro in prima pagina. Giannuso è stato dichiarato dal tribunale del riesame non aver avuto alcun collegamento con le organizzazioni mafiose, ma abbiamo tutti detto che il mostro c'era. Quattro o cinque ex ministri sono stati rimessi in libertà e poi alla fine si è capito che erano del tutto innocenti. Io sono garantista per cultura politica. Attenti quando emettiamo sentenze. Questo come criterio generale. Nello specifico, naturalmente, rimango molto amareggiato. Ricorderete di essere stato io uno dei pochi politici che in aula è andato in tribuna e ha denunciato la mafia dell'antimafia, nel silenzio generale della stragrande maggioranza del Parlamento. Lasciamo lavorare la magistratura e però lasciatemi anche dire che l'industria dell'antimafia in Sicilia deve chiudere battenti. L'antimafia finta non può consentire anche in politica facili carriere. L'antimafia si predica nel dovere del silenzio, giorno dopo giorno. E lasciatemi anche dire che sono contento che ieri la Commissione regionale antimafia abbia eletto il Presidente a larghissima maggioranza, l'On. Claudio Fava, ed è un segnale evidente che quando si tratta di affrontare temi delicati le forze politiche superano gli angusti confini di parte per dare segnali forti e di corale convergenza. Adesso lavoriamo di buona intesa con la Commissione antimafia. Il Governo è attento e sensibile anche su questo fronte. Vediamo quello che accadrà nei prossimi giorni. Spero che la Sicilia possa tornare alla ribalta per eventi positivi finalmente e non più e sempre per battaglie di retroguardia. Illustrati oggi a Palermo i dettagli del contratto di servizio tra la Regione siciliana e Trenitalia. L'accordo è il primo ad essere sottoscritto dopo il passaggio delle competenze del trasporto ferroviario dallo Stato alla Regione. Il contratto di durata decennale ha un valore di 1,2 miliardi di euro. È da due anni che si aspetta la firma del contratto con Trenitalia, quindi noi siamo riusciti in quattro mesi a fare quello che non si era fatto negli anni passati. È stato un lavoro molto impegnativo e anche appassionante, condotto soprattutto dall'assessore ai trasporti Marco Falcone. Trenitalia ha compreso di avere adesso un nuovo interlocutore esigente, leale, un interlocutore con il quale confrontarsi per ottenere il risultato finale che è la qualità del servizio per i cittadini, la migliore qualità possibile. Noi ancora nel sistema di trasporti ferroviario siamo molto indietro in Sicilia, dobbiamo recuperare tantissimo terreno perduto, non solo sulla qualità del trasporto ma anche sulla rete, sulle infrastrutture che debbono essere messe in sicurezza prima ancora di pensare alle cosiddette alte velocità. Quindi intanto abbiamo assunto questo impegno con Trenitalia, un contratto decennale con un impegno di spesa significativo. Nei prossimi giorni incontreremo i vertici delle strutture, quindi di Rete Italia per capire quali programmi di investimento hanno sulla Sicilia. Insomma qui dobbiamo tornare a privilegiare il trasporto ferroviario non per penalizzare quello sul gommato delle autolinee ma perché i due sistemi possano finalmente integrarsi. Oggi è una giornata storica per la Sicilia perché si firma il primo contratto decennale della storia di questa regione, primo contratto di servizio che prevede investimenti importanti, quasi mezzo miliardo di euro di investimenti di cui 324 milioni in nuovi treni che corrispondono a 43 nuovi treni e di questi esemplari ce ne saranno 21, i primi arriveranno a novembre del 2019. Sono treni assolutamente i migliori che in questo momento abbiamo in Europa come operatori ferroviari, sono più scattanti, sono più confortevoli, le sedute sicuramente più confortevoli, molto più tecnologici, pieni di videosorveglianza, telecamere per aumentare la percezione della sicurezza a bordo dei nostri treni. Quindi anche per i siciliani ci saranno più treni e soprattutto con questo contratto non ci saranno solo i nuovi treni ma ci saranno anche più servizi. È un'interlocuzione continua con le associazioni nazionali e poi anche a livello territoriale con quelle che incontriamo nelle varie tappe del nostro show. Oggi si sancisce l'investimento che Tlenitalia farà, questo contratto di servizio che ha firmato con la regione Sicilia permette di fare investimenti di 111 mila euro per dieci anni e questo significa dare questo sviluppo e l'alta velocità in Sicilia che manca o mai da tempo. Noi siamo ex Ikeler, siamo ex operai di un'azienda che era carini, che costruivamo treni e per questo noi siamo qua, siccome siamo sempre stati innamorati di questo mestiere e giustamente quando vediamo queste cose qua a Palermo siamo i primi ad essere partecipi anche all'innovazione. Cambiamo argomento, hotspot a Palermo, Sinistra Comune fortemente contraria, pronta anche a scendere in piazza per fermare l'ipotesi di un centro allo Zen per l'identificazione dei migranti. Ascoltiamo Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune al Consiglio Comunale. Noi siamo decisamente contro qualsiasi ipotesi di hotspot a Palermo, qualsiasi ipotesi di struttura che abbia le caratteristiche dell'hotspot senza chiamarsi hotspot, perché pensiamo che sia un luogo di violazione dei diritti fondamentali della persona, sia un luogo in cui realmente non si garantisce la dignità umana e non è certamente un luogo di accoglienza. Palermo è una città dell'accoglienza, Palermo è una città che in questi anni ha costruito percorsi di grande protagonismo delle comunità migranti e Palermo è un luogo in cui, come abbiamo sempre detto, chi sta a Palermo è un cittadino palermitano. Allora l'hotspot è in palese violazione a questi principi, per questa ragione ci opponiamo in via di principio a qualsiasi istituzione di hotspot a Palermo. Nello specifico pensiamo che l'ipotesi che è stata avanzata sia assolutamente obrobriosa, 7 milioni e mezzo di euro per costruire una struttura apparentemente precaria, noi sappiamo benissimo che non sarà affatto precaria, durerà per tanto tempo, una struttura che si presenta come un vero e proprio vulnus a un tessuto urbano della città che probabilmente meriterebbe altro e non certamente un'installazione di una tensostruttura. Pensiamo anche che ci siano delle ragioni politiche profonde, quello è un luogo importante della città anche dal punto di vista paesaggistico, c'è un vincolo. La sovrintendenza scrive che in quell'area abbiamo delle testimonianze di Canatt, abbiamo delle testimonianze di residui dell'etale rame. Io penso che sia inaccettabile che la sovrintendenza dia parere positivo all'installazione di hotspot in un luogo che abbia queste caratteristiche storico-paesaggistiche. Quindi ci sono un sacco di ragioni. La ragione rispetto al fatto che noi pensiamo che gli hotspot sono in palese violazione dei diritti umani e anche rispetto al fatto che il paesaggio, il territorio della città di Palermo non possa essere sfregiato da un'iniziativa di questo tipo. Per noi il tema non è nominalistico. Quello che stanno costruendo a Palermo o che intendono costruire a Palermo e noi ci opporremo in tutti i modi, sia in Consiglio Comunale che nelle piazze, quello che stanno costruendo o che vogliono costruire è un vero e proprio hotspot. Lo possiamo chiamare come vogliamo. Rientra perfettamente nei canoni previsti dall'Unione Europea rispetto agli hotspot. Abbiamo delle pressioni evidenti da parte dell'Unione Europea che ha detto all'Italia che bisogna costruire nuovi hotspot. Tra questi ci è previsto appunto quello di Palermo. Il termine chiamarlo hotspot o chiamarlo Guglielmo o Alfredo non cambia niente. Rimane la sostanza e la sostanza è che quello è un luogo di violazione dei diritti fondamentali della persona. In una zona con criticità assolute? Noi pensiamo che appunto, diciamo, riteniamo in via assoluta che l'hotspot non vada fatto mai. Non vada fatto mai in nessun luogo, non solo a Palermo. Perché l'hotspot, la filosofia dell'hotspot è una filosofia contraria alla tutela delle persone e alla tutela dei migranti. È un razio di trattenimento delle persone che criminalizza le persone. Per questa ragione siamo contrari all'hotspot in qualsiasi luogo. Il prossimo 23 giugno all'Eventuro ai Cantieri Culturali alla Zisa a Palermo appuntamento con la quarta edizione del Festival della Solidarietà. Un evento benefico che prevede diversi momenti di intrattenimento dalla musica alla moda, dal cabaret all'enogastronomia. Sul territorio siamo molto presenti con delle manifestazioni, tra cui questo Festival per la Solidarietà, dove verranno coinvolti vari artisti locali e non, ma non ci sarà competizione appunto perché è tutto basato sulla solidarietà per aiutare i casi come il caso di Giulia intera e non fa spegnere i riflettori sul caso di, purtroppo drammatico, sulla mala sanità. Niente, in pratica noi abbiamo avuto una forte presenza con il patrocino di Palermo, aiutati dal patrocino di Palermo, quindi abbiamo la sigla del logo del patrocino di Palermo. In questa quarta edizione noi in passato e in attivo vantiamo anche il fatto di avere fatto 14 manifestazioni pubbliche, 9 convegni con tematica portati a termine, 18 progetti di cui 3 in fase di ultimazione. Tra cui c'è anche questo bellissimo Festival che ci vedrà coinvolti ai cantieri culturali della Zisa. Vi aspettiamo in tanti per una causa giusta. Sarò insieme ad Anzionella Giotti il presentatore di questa carmesse di artisti di vario genere. Si esibiranno gratuitamente, quindi assolutamente iscrizione gratuita, poi ci saranno dei numeri che passeranno in sovrimpressione e anche una mail per iscrizioni entro assolutamente il 30 maggio. Una chicca che volevo dare ai nostri telespettatori è il fatto che fra le scuole di ballo ci sarà l'Accademia di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo e chiaramente poi tantissime altre scuole e tantissimi artisti come ho già accennato. Quindi iscrivetevi numerosi, vi aspettiamo per questo Festival della Solidarietà il 23 giugno. Ci saranno tanti momenti dedicati al canto, in questo caso direttore dei casting è Baldo Brandi, dedicato alla danza come ha detto il mio collega presentatore Alex Borghini, dedicato anche al cabaret, alle imitazioni perché in questo periodo ridere fa sicuramente bene a tutti. Ma ci sarà anche il momento delle sfilate di moda che partiranno dai baby ad arrivare a modelle professioniste, verranno presentate le nuove collezioni, gli abiti da spose, accessori e gioielli. In questo caso invece il direttore artistico è Tiberio Cantafia. Ma novità della serata è che ci saranno ben otto stand a carattere no gastronomico per poter presentare, acquistare, vendere cibo, bevande ma ci sarà anche un servizio di ristoro. Che dirvi se non di accorrere numerosi, vedrete appunto me e Alex Borghini presentare l'evento il 23, il festival della solidarietà. Ricordiamo che non c'è assolutamente competizione, non sigareggia, ognuno di noi metterà la propria professionalità, la propria arte a disposizione per aiutare, per far del bene e soprattutto, io l'ho vissuto sulla mia pelle, far del bene ti aiuta a fare bene. Quindi venite, venite numerosi. Polvere da palcoscenico, omaggio al cabaret di Ciccio Piombo, un cortometraggio che intende far conoscere al pubblico di oggi un modo più garbato di far ridere le interviste. Il cabaret di un tempo è quello che noi generizziamo in che senso. Oggi io ritrovo un cabaret molto diverso, soprattutto molto volgare. Mi dispiace questo, perché io voglio ricordare il nostro cabaret al Madison, che era con Gianni Nampa, con Mimo Cuticchio, con Giorgio Uli Bassi, Pippo Spicuzza, Gero Collovà e tanti altri. Il Renzino Barbera, questo era il vecchio cabaret. A me mi hanno definito oggi polvere da palcoscenico, perché me lo ha insegnato questi nostri grandi maestri, quindi Renzino, Mimo Cuticchio, Raffaele Sabato e così via. Polvere da palcoscenico. Addirittura a Catania mi hanno definito diavolo da palcoscenico e questo vi onora. Io sono rientrato di nuovo a Palermo e devo ringraziare Daniele Pitarresi, che mi sta dando una grande mano. Devo ringraziare Roberto Romano, il mio manager e soprattutto direttore artistico. Io sto rientrando a Palermo con un teatro e quindi metto da parte un po' il cabaret, ma è teatro comico teatrale, dove si chiama Portiere si nasce. Quindi è tutta la storia di un palazzo. Mia dolcissima signora, io ti ringrazio e dovere ringraziare Tele One che mi sta dando questo piacere. Grazie. Il progetto nasce come cortometraggio della durata circa di 15 minuti. Il titolo è proprio Gio Ciccio, il cabaret non muore mai, polvere da palcoscenico. Appunto volevo omaggiare questo grandissimo personaggio, il nostro maestro Ciccio Piombo, che con lui, insieme a lui, abbiamo anche un altro attore cabarettista che è Giovanni Patti. Quindi questo cortometraggio parla della vita odierna di questi due cabarettisti palermitani per ricordare proprio il cabaret vecchio stile. Perché veramente è un cabaret sano, senza parolacce, diciamolo pure, dove fa divertire proprio la gente. Volevo ricordare che a proposito questo sabato, pomeriggio alle ore 16, saremo presenti al Cinema Ambassador di Villa Abate, dove ci sarà un po' una piccola squadra e sarà presente il nostro maestro Ciccio Piombo con Giovanni Patti. E cosa accadrà al cinema? Eh, questo non ve lo posso svelare. Quindi io vi dico semplicemente seguiteci sulla pagina Facebook di Gio Ciccio o Daniele Pitarresi. E vi volevo ricordare, attenzione, che abbiamo, adesso lo sveliamo, diamo l'esclusiva al nostro Teleguande che ci segue e mi ha sempre seguito nelle mie storie, nei vecchi progetti, eccetera, eccetera. Volevo svelare la produzione cinematografica che si chiama, attenzione, è Madiga Studio Film Production di Emanuele Di Ganci, che ci sta dando tutta l'attrezzatura, la sua disponibilità. Quindi appunto sabato al Cinema Ambassador per creare questa nuova formazione di squadra, insieme al nostro maestro Ciccio Piombo e Giovanni Patti. Nasce a Palermo l'Associazione Pensionati Sole nel quartiere di Corso Calatafimi. Le interviste. Nasce nel quartiere di Corso Calatafimi l'Associazione Pensionati Sole. Un momento di incontro e di aggregazione tra tutti coloro che ormai dopo tanti anni di lavoro si ritirano e decidono di incontrarsi, di passare insieme del tempo. Quindi tutto questo per lottare contro l'emarginazione sociale. Certo, per lottare contro l'emarginazione sociale. Anche perché considerando il fatto che il territorio è vuoto di centri sociali, di centri di riunione, diciamo io li chiamo anziani, che poi non sono anziani, sono persone che sono in pensione, che non essendo, perché parecchia gente non è di Palermo, parecchia gente come le forze di polizia che sono di paesi fuori. Non hanno sbocchi, non hanno niente. Questa associazione è nata principalmente per incontrarsi tutti. Qua sul po' è cercare di passare il tempo, la partitina, niente di particolare. La partitina, scambiare due parole, leggere il giornale. C'è un punto di ritrovo. Una casa famiglia, dai, per gli anziani. Siamo tutti giovani, giovani e allegri. Tra l'altro ogni stanza è adibita ad un uso ben specifico. Ogni stanza è adibita, ma per vari motivi, perché c'è chi vuole farsi la partitina, c'è chi vuole leggere il giornale, c'è magari chi vuole stare un po' più tranquillo, c'è chi vuole vedersi la televisione e ci sono delle stanze adibite. Tipo questa che vediamo qua, noi l'abbiamo chiamata una sala relax. Chi non ha voglia di farsi la partitina si guarda il televisore e si passa il tempo. Perché non tutti vogliono giocare. A parecchi ti serve pure magari per avere scambio di idee con altri amici, altri colleghi. Perché, ti ripeto, questa è un'associazione che fa carabinieri, polizia, però via, tutti i pensionati di Cossola da qui. Qual è la sua impressione qui all'interno dell'associazione? Come vi trovate e cosa fate? Ma noi ci troviamo bene perché l'abbiamo voluta, l'abbiamo creata e ci crediamo. Non abbiamo né ripensamento né niente, vogliamo crescere. Io sono contento che questi soci, diciamo, ci stanno interessando questi colleghi, tre carabinieri che hanno fatto questa iniziativa di fare questa associazione, perché tutti i pensionati sono contenti. E noi ci siamo scritti, dietro la responsabilità di tutti quanti, che nessuno comanda, siamo tutti uguali. Quindi siamo contenti che tutti si iscriveranno. Ma come si è ritrovato in mezzo a tutti loro? Mi trovo bene perché quasi quasi che loro mi temano, perché io, essendo il meno giovane della comitiva, e quindi se dico qualche cosa loro mi ascoltano. Ciclo Amnesty e Open for Amnesty, due domeniche a Palermo all'insegna dei diritti umani. Il gruppo Italia 243 di Amnesty International torna ad organizzare i due eventi a sostegno delle campagne di tutela dei diritti umani in occasione dei 57 anni dalla nascita del movimento. Torna il ciclo Amnesty, la consueta pedalata in giallo organizzata da nove anni a questa parte dal gruppo Italia 243 di Palermo di Amnesty International. Ed il prossimo 27 maggio gli appassionati di golf potranno cimentarsi nell'Open for Amnesty, torneo organizzato come da tradizione dal golf club Palermo Eroldi. Le due iniziative si inquadrano tra centinaia di eventi che in tutta Italia i gruppi di Amnesty International organizzano per celebrare la nascita del movimento fondato da Peter Benenson nel 1961. L'appuntamento per gli appassionati e la bici è fissato alle 9.30 di domenica prossima al Parco Auditore. Gli organizzatori invitano a registrarsi utilizzando il link presente sul sito amnesty243.it oppure presso il gazebo che sarà allestito presso il parco. La registrazione dà diritto alla copertura assicurativa ad alcuni gadget offerti dai partner della manifestazione. Il comitato organizzatore, come di consueto, invita i partecipanti ad indossare un indumento giallo, il colore di Amnesty. La pedalata è aperta ai disabili. Il percorso attraverserà alcune arterie della città, via Leonardo da Vinci, via Auditore, via Le Michelangelo, la rotonda di Viale Regione Siciliana, via della Libertà, via Notar Bartolo, via Terra Santa, via Dante, via Zisa per poi tornare al Parco Auditore. Il 27 maggio alle 9.30 torna anche l'Open for Amnesty, la consueta gara di golf che i soci del Golf Club Palermo Villa Eroldi organizzano devolvendo le quote di iscrizione al movimento. E' questa un'occasione per i golfisti di mostrare concretamente il sostegno alle azioni di tutela dei diritti umani svolte da Amnesty International. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi. Arrivederci alla seconda edizione. Grazie a tutti.